Siamo un'azienda che si occupa di saldatura di componenti termoplastici, un range di differenti tecnologie, vibrazione, infrarossi, lama calda, la classica ultrasuoni e soprattutto la laser, che è la tecnologia che presentiamo oggi. È la nostra macchina di saldatura più piccola, tecnologia laser simultanea, cioè l'irradiamento laser sul perimetro del componente avviene nello stesso momento sul lungo tutto il perimetro. Ci sono altre tecnologie che invece utilizzano un solo raggio laser che si muove molto velocemente, e che chiaramente è una tecnologia più economica ma che non garantisce gli stessi standard di saldatura. Un evento come questo sicuramente è un evento interessante per noi perché ci permette di mostrare a dei tecnici le nostre tecnologie e quindi magari non ci capiterà di incontrare dei potenziali clienti, ma avendo un profilo molto tecnico e i visitatori di questa fiera può essere interessante spiegare a livello di ricerca e sviluppo come si è arrivati a una certa tecnologia.